I migliori anni. C'è Marco Masini. Atteggiamento evitabile di Conti La performance di Masini è quell'uscita di Carlo Conti che dice molto sulla, vecchiaia, insita in mamma Rai Ok. La Rai deve essere, mamma, proteggere, dare un senso di familiarità e tc ecc. Però è pur vero che anche nelle famiglie migliori e più educate è fisiologico che ogni tanto scappi una parolaccia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.